Musica Benvenuti a TG Sport Flash, l'appuntamento settimanale con casertasera.it Oggi parleremo di calcio di serie D, di pallavolo, ma sentiremo anche la voce dei tifosi. E cominciamo proprio con la serie D di calcio e delle squadre casertane impegnate nel prossimo turno. Naturalmente parliamo dell'Aurora Alto Casertano e del Matese. Ma facciamo il punto, iniziando proprio dalla serie D, come di consueto con il nostro Emilio Bianchi. Premego la regia di mandarlo in onda. La partita con la San Benedettese giunge in un momento molto delicato per la squadra del Matese. Reduce da due sconfitte consecutive, entrambe per un a zero con praticamente un solo tiro in porta. E partite dominate dalla squadra di Urbano. La partita con la San Benedettese, dicevo, è uno svincolo molto importante per la classifica dei verde oro. Perché la San Benedettese si trova a 36 punti, come il Matese, in una posizione di classifica dove un paio di partite, vinte o perse, ti condannano ai play-out oppure ti mandano nel paradiso dei play-off. Logicamente a questo punto del campionato per il Matese l'obiettivo primario è non perdere. La partita con la San Benedettese, dicevo, giunge proprio in un momento particolare. La squadra c'è, il gioco pure, però i risultati non stanno venendo. Urbano penso che confermerà la stessa formazione delle ultime partite, che ha ben figurato nonostante le sconfitte. Spera di portare qui a Piedimonte un punto prezioso, oltretutto per non farsi superare in classifica dalla squadra avversaria. Per quanto riguarda l'Aurora Alto Casertano, che nell'ultima partita ha addirittura vinto una partita per 5-0 e ne stava vincendo un'altra in trasferta, per poi cedere negli ultimi minuti, la squadra che sta giocando attualmente a Pietra Melara ospiterà il vasto Girardi, una partita giusta per consacrare questo buon momento della squadra casertana. Sperando che perlomeno i giocatori della squadra di Montaquila sappiano portare avanti un campionato dignitoso fino alla fine di questo torneo. L'FC Matese, nel momento in cui sta esprimendo il miglior gioco della stagione, ha purtroppo perso due gare molto importanti. L'ultima, domenica scorsa, con il Tolentino. I marchigiani hanno vinto con un unico tiro in porta. Ora si complica davvero il cammino. Oppure la salvezza è ancora alla portata della squadra Matesina? Noi lo abbiamo chiesto al direttore sportivo Pietro Pacilio. Il servizio. Purtroppo dopo la sosta del Viareggio abbiamo fatto in due partite solo un punto, però diciamo siamo stati molto sfortunati perché comunque in tutte e tre le partite siamo stati padroni del gioco e la sorte non è girata a nostro favore. Con la San Benedetto è ormai una diretta concorrente. Sì, 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 penso che dalla settima, ottava in giù sono tutti diretti concorrenti. Per noi è un'onore di domenica andare a giocare in uno stadio importante come San Benedetto del Tronto e venderemo cara la pelle e facciamo il possibile portare i punti a casa. La tifoseria è ovviamente vicina alla squadra e crede ancora fortemente nella salvezza. Vediamo il servizio. Bene, sì, ci siamo complicati la vita nelle ultime settimane, purtroppo, maledettamente va detto, anche qualche torto arbitrale, però ci abbiamo messo anche del nostro. L'invito è tutta la tifoseria a cercare di organizzarsi in proprio, con furgoni, furgoncini, non lo so la società che deciderà, però la società ha già altri problemi che si stanno risolvendo tutti per bene e cerchiamo di mobilitare quando i più tifosi possono raggiungere il Riviera delle Palme, un campo che ha fatto la storia della Serie B e della Serie C. Per i play-out è chiaro che dobbiamo fare 9 punti e li scansiamo, altrimenti saranno play-out. Queste le partite del prossimo turno di Serie D che si giocheranno domenica. Aurora Vassogirardi, San Benedettese e Matese, Reala Versa Cavese, Torres Gladiator, Casertana Mariglianese. E ora invece parliamo di pallavolo, di Serie C e di conseguenza di polisportiva Matese. Con noi il coach Mario Scappaticcio che ci parla delle prossime gare della squadra maschile e femminile. Per il settore maschile la Serie C sarà impegnata in casa contro Azzurra Volley Napoli, che è una squadra che nelle ultime 9 gare ha ottenuto 7 vittorie e solo 2 sconfitte, tutte e 2 fuori casa. Noi per continuare il nostro percorso naturalmente dovremmo portare la squadra alla vittoria per proseguire quello che è la testa della classifica e allungare semmai sulla seconda e sulla terza perché comunque il campionato prevede alla fine la prima che sale direttamente in B e la seconda che si gioca in play-off se la distanza dalla terza è inferiore ai 5 punti altrimenti anche la seconda sale di diritto in B. Quindi la nostra rincorsa in queste ultime 8 gare sarà quella di giocarci ogni gara come se fosse una finale e poi tirare le somme alla fine. Per quanto riguarda invece la femminile, la femminile giocherà l'ultima giornata di campionato sabato fuori casa a San Giorgio e abbiamo già acquisito quello che è il terzo posto in classifica quindi la possibilità di poter accedere ai play-off per giocarci la promozione anche lì in Serie B femminile B2. Incontreremo nei play-off, la griglia è già stata fatta nonostante si debba giocare l'ultima giornata di campionato perché la distanza tra la quarta e la quinta dall'altra parte del girone è piuttosto corposa quindi incontreremo la quarta dell'altro girone che è Consorzio Napoli, Marichiaro e anche lì ci sarà una partita di andata e ritorno dove chi vincerà accederà alle semifinali che saranno giocate in un scontro unico. Diciamo che le prospettive sono buone per tutte e due le squadre. Sì, per la maschile naturalmente la strada è certamente più spianata in quanto gli obiettivi iniziali erano quelli di poter fare il salto di categoria. Per la femminile, poiché all'interno della rosa e della squadra da titolari sono inserite tre ragazze under, il campionato di Serie C è sicuramente un campionato tosto per loro per poter ambire a una promozione, però noi cercheremo di fare il possibile per arrivare quantomeno in semifinale. Il nostro TG Sport termina qui, grazie alla regia, grazie a voi tutti che ci avete seguiti e come sempre alla prossima settimana. Sigla! Grazie a tutti!